Ma che personaggio? Vitaevo, che colori! Prettacolo! E poi di salire... Guarda, guarda! Tutti pronti, i cavalli? Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Sennò c'ho qua un po' di morfina, io, in caso. Il rosso sono... Io c'ho! Il rosso più facile, più verde, e il rosso un po' più creativo, più tecnico. Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda!